Berry Plant è felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Questa proprietà comprende Cucina elegante con elettrodomestici di qualità completa questa casa. Camere da letto di buona misura con ampio spazio. Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi. Contattate la gente.